Tu hai sbagliato, tu hai sbagliato, no sei tu che hai sbagliato, tu hai sbagliato, no sei tu, 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 no, tu, tu. Come si evita il conflitto estremo? Per capire come si evita dobbiamo capire anche come è fatto un conflitto estremo. Un conflitto si estremizza nel momento in cui le due parti sono convinte di avere soltanto ragione. Perché se io sono convinto di avere soltanto ragione, io mi elevo a giudice e mi posso permettere anche di dire tu hai sbagliato e di qua fai la stessa cosa, tu hai sbagliato. Ma come faccio ad elevarmi a giudice? Così tanto da permettermi di giudicare e di decidere che io ho ragione? Beh, perché questa dinamica si verifica in tante situazioni. Se uno si limitasse a dire io ho ragione e quindi mi sento tutto da parte della ragione, questo sarebbe soltanto una deriva narcisistica, non sarebbe l'essenza del conflitto estremo. Ecco perché queste estremizzazioni conflittuali avvengono anche al di fuori delle dinamiche narcisistiche. Ecco al di fuori del disturbo narcisistico non si può sempre parlare di narcisismo. Ecco, quindi che cosa succede a due persone che magari hanno delle personalità pulite, ok, ma arrivano a tanto, a questo darsi la colpa così? Ecco, proprio questo, è questo che porta la persona ad elevarsi. Il fatto non di dire io sono dalla parte del giusto, ma è il dire tu sei dalla parte del torto. Perché più io punto il dito contro di te, tu, tu, tu hai sbagliato, tu sei dalla parte del torto, più questo mi sveste di ogni responsabilità, di ogni negatività che metto addosso a te. E io rimango soltanto con la parte buona, la parte positiva, quindi io sono buono, ok? E da quest'altra parte che succede quando si sentono accusati, si difendono e che fanno la stessa cosa? Tu, sei tu, sei tu! E in questo modo che succede? Anche questa persona si sveste della sua parte, della sua parte negativa. La proietta su di te e rimane vestito della sua parte buona. E facendo in questo modo ecco che abbiamo uno buono e un altro buono e sono due buoni, ok? E più insistono nell'aggredire l'altro e nel dare la colpa di là, più l'altro diventa cattivo, cioè più io ti vedo tremendo, vedo un mostro e più da questa parte tu mi vedi mostro e più dico no, il mostro sei tu e quindi vedo un mostro da quest'altra parte. Più è grande il mostro e più i romanzi ci insegnano che è grande l'eroe, più il cattivo è potente, più è potente l'eroe, il protagonista. E quindi questa persona diventa elevata e assolutamente dalla parte del giusto. E a questo punto che succede? Siccome io sono completamente dalla parte del giusto, innanzitutto io sono quello buono, e di qua, siccome io sono completamente dalla parte del giusto, io sono quello buono, e siccome di qua c'è uno cattivo cattivo, è giusto che io lo combatta, perché non si può tollerare queste cose. E di qua cosa pensa? Siccome di qua c'è uno cattivo cattivo, è giusto che io lo combatta, non si possono tollerare queste cose. E quindi, per combatterlo, per combatterlo, ecco, gli eroi che fanno per combatterlo, gli eroi seguono le regole, giusto? Ecco, ma nella vita reale che succede? Ecco, che non segui le regole. Perché siccome è giusto combatterlo, inizio a giustificare me stesso anche delle mischinità che faccio per vincere in questo conflitto. E di qua, siccome è giusto combatterlo, mi autogiustifico delle meschinità che faccio per vincere in questo conflitto. E quando vedo le sue meschinità, ahhh, quando vedo le sue meschinità, giustifico maggiormente le mie. E quindi giustificando maggiormente le mie meschinità ne faccio ancora. E a questo punto il conflitto si è estremizzato. Siamo arrivati agli estremi. E i due eroi cosa sono diventati? Sono diventati due persone meschine che fanno cose meschine, l'uno verso l'altro, e quindi sono diventati cattivi. Quindi i due eroi, i due buoni, sono diventati due cattivi. Entrambi convinti di avere completamente ragione e in realtà entrambi nel torto. Ecco, cosa ti salva da questa dinamica terrificante che tu sicuramente hai vissuto con almeno un amico, almeno un parente, almeno un collega. O di di no. Allora, come se ne esce? Ecco, e qui entra in ballo la democrazia. Ok? Con tutti i suoi difetti c'è un principio basilare e cioè riconoscere a te il diritto di pensarla diversamente da me. Perché se io riconosco che tu possa avere un punto di vista che io reputo sbagliatissimo, addirittura brutto e orribile, ma ti do la possibilità, ti riconosco il diritto di averlo, a quel punto tu non sei più un mostro. E' questo il fatto. E se da quest'altra parte io riconosco non vengo visto come un mostro e riconosco anche a te il diritto di avere un punto di vista diverso, è che a questo punto neanche di qua c'è un mostro. Quello che avviene più spesso però cos'è? E' che in realtà io riconosco a te il diritto, tu a me non lo riconosci, quindi io non vedo più un mostro ma tu vedi me un mostro. Giusto? Benissimo. Ecco, che cosa succede in questo momento? Che tu fai le tue meschinità ma nel momento in cui io riconosco a te quel diritto, ok? Questo non vuol dire che io non riconosco i tuoi errori e non metto dei confini, capisci? Anzi, vedo meglio i tuoi errori e vedo meglio dove mettere dei confini. Perché quando non ti vedo più come un mostro ho smesso di giocare al giochino delle proiezioni, delle idealizzazioni positive e negative e ho iniziato a giocare al gioco della realtà. Quindi io vedo te e vedendo te vedo il modo con il quale tu pensi, vedo il modo con il quale tu reagisci, vedo quali sono le tue leve motivazionali, ti vedo chiaramente per ciò che sei e vedendoti chiaramente per ciò che sei non mi sfuggi più, non mi puoi prendere impreparato, non puoi farmi cadere in errore, perché io guardo la realtà. Questo è il modo per evitare l'estremizzazione ma anche per vincere all'interno di un conflitto estremo. Rimanere ancorati al concetto di diritto di essere diversi, perché essere diversi è normale. lasciami un commento, fammi sapere cosa ne pensi.